matilda jolly ben ritrovata su spettacolomania come stai sto bene sto bene bene senti noi ci siamo viste quest'estate quando ancora no e quando c'era diciamo uno dei periodi migliori alla pellicola d'oro ti ricordi ti ho intervistato e ti avevo chiesto venivi dal set di doc 2 praticamente tu mi avevi detto che a giulia accadranno cose straordinarie cambierà moltissimo ora capisco tutto naturalmente non spoiler però diciamo che già dal primo episodio vediamo che lei sembra pronta no a cambiare un po la situazione invece poi insomma sì esatto quello che succede a me dispiace un po perché sai noi abbiamo il piano in cui appunto tecnicamente interpretiamo il personaggio ed eseguiamo poi c'è un piano in cui rifletti su quello che succede a questa persona ed empatizzi cioè ti dispiace no e io spesso ho riflettuto sul fatto che lei inizia questa seconda stagione con una grande voglia di ricominciare una riapertura nei confronti anche di un uomo che l'ha corteggiata per tanto tempo lei non l'ha mai visto poi improvvisamente lo vede decidono addirittura di fare un figlio insieme cioè c'è una riapertura per questa donna che poi è anche così spesso fredda così così riservata lei decide di lasciarsi andare di fidarsi della vita e poi la vita la rifrega a me dispiace veramente per Giulia perché io so che dietro quel lasciarsi andare di che hai visto nella prima puntata dove la vedi un pochino più rilassata un po più sorridente un po più donna anche quasi materna so che a lei è costato tanto arrivare a quello e di certo non si aspettava di essere abbastonata così subito quindi questo però ovviamente non vuol dire che non dobbiamo continuare assolutamente no però rimane no ok infatti poi ne succedono tante altre quindi Giulia dovrà comunque confrontarsi con ancora tanti tanti eventi e incontri però rimarrà questa scottatura che lei ha nei confronti della vita cioè nel momento in cui mi sono lasciata andare sono stata subito fregata noterete nel corso delle di tutte le sedici puntate che comunque questa cosa è sempre sul chi va là ti è dispiaciuto un po chi è Giulia per te oggi oltre ad essere un ruolo ovviamente anche qualcuno magari con cui ogni tanto ti confronti o ti confidi Giulia Giulia è una è una donna che mi sta insegnando tantissimo c'è uno scambio tra me lei però insomma per adesso sono più le cose che lei sta insegnando a me guarda io non sono un appassionata dei segni però io per esempio sono della vergine perché sono nata il 2 settembre e la vergine ha dei degli elementi precisi che io non ho io tutto delle dell'ascendente che è lo scorpione Giulia invece è proprio una vergine e mi sta insegnando ad essere della vergine quindi più precisione un po più di riservatezza puntualità meno caos quindi posso dire che questa donna mi sta portando alla mia vera natura quella che sarebbe in teoria la natura del segno predestinata esatto io sarei predestinata per essere una sorta di Giulia poi una forse per gli eventi della vita che ho avuto non lo so però sono sono stata invece un po l'opposto adesso sto rientrando forse perché sono ufficialmente donna 32 anni sto rientrando in una personalità un po più simile forse quella di Giulia senti un gioco velocissimo eh ovviamente riferendoci al tuo personaggio a ciò che 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 le succederà durante questa nuova seconda stagione restare o andare restare restare sempre il più possibile e invece questa serie che cosa ti ha dato beh questa serie è una grandissima scuola innanzitutto perché stare sul set così tanto tempo tutti i giorni con degli orari precisi con la sveglia la mattina con con anche una sensazione un po più di sicurezza rispetto alla precarietà del nostro lavoro per cui noi lavoriamo due mesi poi chissà chi ci chiamerà chi non ci chiamerà se staremo fermi non staremo fermi qui tu per nove mesi come l'anno scolastico hai la certezza che ti fai tutto l'anno scolastico e che sarai molto impegnato questo dà molto senso alla vita soprattutto di un giovane che lavora cioè avere l'impegno proprio quotidiano del lavoro e poi da ordine e poi noi noi giriamo tante scene al giorno per poter concludere 16 episodi che è come se fossero 16 piccoli film in tot mesi a volte a noi capita di girare anche una decina di scene al giorno questo ritmo serrato con tanta memoria per me una palestra incredibile cioè sono sono adesso sono molto scattante e come invece come sensazione cioè come storia come beh mi lascia tante cose ci sono dei momenti sul set in cui anche se non sono scene che giro io però mi emoziono perché mi ricorda situazioni che ho vissuto perché comunque quando vedi i pazienti le famiglie la sofferenza l'amore sai per forza ti identifichi e poi mi sta lasciando un bagaglio incredibile a parte anche di tutta una esperienza medica e poi io volevo fare il medico quindi figurati io appena so che devo devo fare una in cui devo parlare di qualcosa di medico i giorni prima vado praticamente a studiarmi tutto quello che c'è sul tema perché mi incuriosisce tantissimo quindi mi sta lasciando tanto sotto ogni punto di vista grazie matilde grazie a te patrizia con con molto affetto come sempre grazie prestissimo